Chiusano Serbatoi, produzione e vendita di serbatoi omologati e metallici. L'azienda si occupa della produzione e della vendita di serbatoi omologati e metallici standard e su misura, rivestiti in vetro resina, verniciati, catramati. Inoltre esegue lavori di carpenteria civile e industriale sul disegno del cliente, è centro assistenza e vendita gru per autocarri e realizza allestimenti su misura di cassoni fissi, furgoni e centinatti. Chiusano Serbatoi si trova in località Valleversa 132A, provincia di Asti.